È stato così il tuo primo giorno di scuola? Era questa la tua matita preferita? Questa è la loro infanzia? Il lavoro minorile si combatte con la scuola. Costruiscila insieme a noi. Adotta anche tu un bimbo a distanza. Prenditi cura di lui e del suo futuro, perché i suoi diritti non sono un gioco. Chiama all'848-808-838. All'848-808-838.